Manuela, con chi balli di te? Con Carlo Non voglio Non vuoi? Ah, addirittura, hai visto che ti ho difeso invece in esterna? Quello non l'hai visto, eh? Ti ha chiamato ragazzetto E io ho detto, ragazzetto, c'ha un nome, si chiama Carlo e sta uscendo con me Perché dopo quello che... Ti ho difeso, non l'hai visto, eh? No, quello che vuole vede, quello che vuole vede lui Posso parlare? Mi ha detto, potevi dirlo, cioè invece di chiedermi scusa semplicemente, come io avrei fatto Chiedimi scusa, mi dice, no guarda, potevi dirlo ieri, non c'ho voglia Ti dico la verità, Maria, cioè sono sincero, non lo voglio Allora, Carlo Scusami però, magari poi passarà un po' di tempo, non la vedrai, non ti lamentare poi Perché il moto ha scelto, magari avete discusso, hai litigato, ti sei sfogato Vuole ballare con te, non penso che ti stia facendo un regalino Cioè, ma anche tu, no? No, no Sei stato là 40 minuti a urlar Adesso che ti invita a ballare, balla Sei stato lì che ti sei venuto il peccato fuori Non vuole Non vuole Grazie a tutti